Ormai dovremmo avere imparato a non sottovalutare le minacce di Kim Jong-un, quelle che in passato erano state a volte interpretate come delle esagerazioni, poi purtroppo si sono dimostrate reali, cioè i progressi del suo programma sia missilistico sia nucleare. E quindi bisogna interrogarsi sullo scenario di questo test atmosferico in altitudine di una bomba H all'idrogeno. O anche se fosse soltanto una bomba atomica tradizionale non all'idrogeno, l'idea di farla esplodere in altitudine rappresenta uno scenario davvero nuovo. Perché finora c'è stato un confine abbastanza preciso, diciamo una linea rossa che Kim non ha mai valicato, ha sempre fatto dei test per dimostrare la sua capacità di colpire, ma non ha mai effettivamente attaccato lui per primo né la Corea del Sud, né il Giappone, alleati degli Stati Uniti, né tantomeno un territorio americano come può essere l'isola di Guam. Ora, qualora lui davvero dovesse fare un test di una bomba nucleare in atmosfera, non più sotterraneo, cose che si facevano negli anni 50, poi sono state abbandonate per via delle radiazioni, quali sarebbero le conseguenze? Per l'appunto la nuvola, il fungo in altitudine, farebbe poi precipitare a seconda dei venti delle radiazioni nucleari verso la Corea del Sud, verso il Giappone o addirittura verso un territorio americano. E questo sarebbe quindi da considerarsi alla stregua di una aggressione, scatenando quell'attacco che lo stesso Trump ha minacciato da Palazzo di Vetro nel suo primo discorso alle Nazioni Unite. Sono questi purtroppo degli interrogativi non più fantapolitici, ma che dominano l'attenzione in queste ore. Grazie a tutti.